Oltre 2.400 nuotatori da tutto il mondo hanno preso parte alla 34esima edizione della Bosphorus Cross Continental Swimming Race in Turchia, singolare gara tra Asia ed Europa. L'evento, a cadenza annuale in acque libere, è infatti l'unica competizione ufficiale di nuoto al mondo ad attraversare due continenti. La metà dei partecipanti viene dall'estero e si è radunata ai nastri di partenza alla presenza del ministro dello sport turco Kasapolu. La gara, che si tiene sin dal 1989, inizia sul lato asiatico di Istanbul e termina invece sul lato europeo, coprendo una distanza di 6,5 km nell'iconico stretto del Bosforo. Grazie!